Favorevoli 293, contrari 157, la Camera passa la mozione del PD e di AP sull'Italicum in cui si chiede ai gruppi parlamentari di esplicitare le proprie proposte di modifica della legge elettorale valutando così le possibili convergenze. 293 voti favorevoli e 157 in o. Mancano all'appello i voti di 42 deputati DEM, primi fra tutti i leader della minoranza. Questa mozione dà l'idea che non si voglia far nulla, attacca Pierluigi Bersani, bocciate le mozioni delle opposizioni.